Dopo partita con Walter Cannadelli, allora sei un po' amareggiato? Sì, sono amareggiato perché la mia squadra oggi ha giocato alla pari contro una corazzata quale l'angolana. Abbiamo preso due gol sul calcio d'angolo, tra l'altro uno non c'era. E lì è scattata l'esposizione. Ha messo dall'albitro a fine partita, che ha sbagliato. Due gol uguali abbiamo preso, poi la partita l'avete vista tutti, noi ce la siamo giocata fino alla fine. Io ai ragazzi non gli posso dire niente. Siamo una squadra giovane, con tantissimi ragazzi forti, secondo me, che hanno un futuro. Dobbiamo continuare a lavorare su questo e penso che possiamo toglierci grosse soddisfazioni. Bene il primo quarto d'ora e il secondo tempo, ci sono stati dei buchi però. Sì, certo, poi ci siamo un po' allungati perché volevamo pareggiare la partita. Anche se poi il secondo gol ci ha tagliato un po' le gambe. Però poi abbiamo fatto due cambi giusti e la partita la stavamo riprendendo. Io sono convinto che se continuiamo a lavorare e giocare così, prima o poi i risultati vengono, perché non è possibile. Mister Pierantoni, bella vittoria ma potevate chiuderla prima? Esatto, una giusta analisi. Potevamo chiuderla prima, abbiamo fatto rientrare in partita loro. Merito a loro perché ci hanno creduto ed è merito nostro, però era l'importante vincere e abbiamo portato a casa la vittoria. Allora, essere capolista è un onere ma ovviamente anche un onore. Più gli spunti positivi o quelli negativi? Ma no, come sempre l'analizzeremo domani la partita. Però dai, potevamo fare sicuramente qualcosina in più, però ci sono sempre gli avversari che magari ti rendono la vita un pochettino più difficile. Potevamo gestirla meglio come hai detto tu, però l'importante è che abbiamo vinto di nuovo. Allora, l'obiettivo comunque è crederci e provarci fino alla fine. Esatto, bisogna crederci e provarci fino alla fine. Comunque è una squadra che ha fatto 9 vittorie su 11 partite. Volevamo dedicare questa vittoria poi a Sammaciccia che purtroppo si è fatto male. Continuiamo così. Per chiudere, la vostra avversaria, se dovesse eleggere una avversaria, una solamente? Ci sono squadre che stanno facendo bene, una solamente. Io metto sempre Giulianova soprattutto, però complimenti anche alle altre squadre che stanno tenendo il passo, quindi sarà un campionato avvincente.